Le nostre aziende sono al collasso e quindi questo sistema non va bene, a noi deve essere riconosciuto il lavoro per quello che è. Ci tolgono il lavoro e ci tolgono i camion, quindi le istituzioni ci devono tutelare da questa presenza ingombrande, da questo potere indefinito. Grazie mille. Le opportunità di lavoro, una questione che ormai si protrae da tempo ed in cui la prefettura dovrebbe pronunciarsi il prossimo 7 settembre. Siamo nati grazie a INI e abbiamo sempre lavorato con INI, però ora ci troviamo nella situazione che questo contratto è stato completamente tolto dalle nostre disponibilità e siamo diventati sub vettori di aziende che vengono da Roma e vengono da Alessandria. Quindi ora questa è la nostra posizione, quella di garantire a tutte le famiglie del territorio la possibilità di continuare a lavorare e soprattutto di produrre, avere profitti, dato che su Taranto ci sono solo inquinamento, come tutti sappiamo, e disoccupazione. Fin quando resterete qui? Fin quando non avremo, se prima c'è un piccolo spiraglio, ora vogliamo l'appalto diretto con INI, senza sub vettori più. Tutto qui.